Ma quanto manca a Paititi? Ci siamo quasi. Ho perso lo scrigno, mi spiace. Non è colpa tua. È di Dominguez, è della Trinità. Ora come in passato, fin da che ho memoria, è sempre stata colpa loro. Potevo avere una famiglia. Tutto sarebbe potuto essere diverso. Prenderemo lo scrigno e fermeremo Dominguez. Altezza. Lara! Dov'è lo scrigno? Amaru l'ha preso. Ma la morte del sole si avvicina. Lo prenderemo prima che completi il rituale. Non sarà facile. Dovremmo cambiare piano. Ti prego, preparati con calma adesso. Riuniremo tattici ai guerrieri. Grazie. Io resto per aiutare Uccio. Se hai bisogno, chiama. Ok. Non ho abbastanza spazio. Non ci vorrà molto. Grazie ancora, Lara. È molto importante per il futuro di Paetiti. Non posso credere a quanti… … … … … Non posso credere a quanto è cresciuto. Non posso credere a quanto è cresciuto. Fa che si salvino. Non posso credere a quanto è cresciuto. 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 È cresciuto. Non posso credere a quanto 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 è cresciuto. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione